Grazie Presidente Mattarella che mi offre questa opportunità dopo aver lavorato per anni con Angela Merkel, con Christine Lagarde e Ursula von der Leyen, dicevo, grazie che mi dà questa opportunità Presidente Mattarella, di incontrare Vito Crimi. Vabbè, dovrà anche parlare con Salvini. Ecco, anche lo ringrazio, ma grazie anche per Salvini, quello che se non sbaglio ha i braccialetti che fa gli elenchi, e quindi ringrazio Silvia, Giacomo, Idovica. Sì, è lui, è proprio lui, però guardi c'è anche Zingaretti. Zingaretti, ma quello mi hanno detto che basta bagnarlo due volte al giorno. No, no. No, l'importante piuttosto è non incontrare, come dice il Presidente Macron, le feste de marde. Eh? Lo chiamano così, le feste de marde. Ma no, non credo, no. Sì, sì, te lo dico. Ma devo incontrare con lui. Sì, sì, sì. Ma grazie, Mattarella, eh? Fratelli di Crozza, torna live! Da venerdì 19 febbraio alle 21.25 sul 9 e in live streaming su Discovery+. Soeta, torna live! Grazie a tutti.